Comandante, si traccia sempre un bilancio di fine anno, le chiedo subito per la Polizia Municipale, il 2016, che anno è stato? Diciamo che è stato un anno abbastanza formidabile, diciamo prolifico, perché siamo riusciti a portare avanti il nostro programma lavorativo, non solo, ma a raggiungere tutti gli obiettivi. In materia di viabilità sicuramente abbiamo fatto tantissimo, sia per quanto riguarda la circolazione stradale, perché abbiamo rivoluzionato su direttive del sindaco gran parte della circolazione stradale rendendo più razionale e più veloce quello che è il flusso veicolare, ma soprattutto anche nell'attività vera e propria di Polizia Stradale, perché tutti sanno che abbiamo attivato le nuove tecnologie, street control, autovelox, controlli ZTL tramite la videosorveglianza e questo ha portato un notevole alleggerimento sulle strade comunali del traffico. Abbiamo evitato, non esistono più le doppie file sul corso Salvatore Aldisio, come era una volta, non esistono più quei parcheggi selvaggi, soprattutto nelle zone riservate ai disabili, non esistono più le macchine sui marcepiedi. Diciamo che sotto questo punto di vista l'anno è stato piuttosto prolifico. Allo stesso modo possiamo dire per quanto riguarda l'aspetto annonario. Le strade principali della città, se i cittadini lo ricordano, erano in fase dagli ambulanti. Questo oggi non esiste più. Non posso dire che il fenomeno è stato debellato perché sarei un bugiardo. È chiaro che il fenomeno esiste, esiste in quelle parti della città meno controllate, ma soprattutto in quelle parti della città dove non dà fastidio. Ecco, tolleranza zero in merito all'abusivismo commerciale e tolleranza zero anche in merito all'abusivismo edilizio? Esattamente. Sotto l'aspetto dei controlli edilizzi non abbiamo intietreggiato di un passo. Tanto è vero che ad oggi il fenomeno dell'abusivismo edilizio, non posso dire che sia stato totalmente sconvitto, ma sicuramente è fortemente sotto controllo. Per quale ragione? Perché tutti sanno che in passato succedeva che nello stesso giorno si edificavano 3-4 immobili abusivi di sana pianta. Oggi invece l'abusivismo edilizio riguarda semplicemente il completamento della veranta, la terrazza, l'apertura della finestra e così via. Diciamo che sotto questo aspetto c'è stato un notevole miglioramento per la vivibilità della città. E per il 2017, guardate, cosa si augura? Allora, il 2017 innanzitutto vorremmo portare a compimento quanto abbiamo iniziato nel 2016. E quindi per quanto riguarda la viabilità sicuramente avremo la necessità di sgombrare dal traffico veicolare altre arterie cittadine che sono particolarmente trafficate. Mi riferisco a quelle arterie che sono state in quest'ultimo periodo poco attenzionate, come via Reganati, come via Niscemi, come via Tevare. E allo stesso modo noi abbiamo come obiettivo quello di liberare anche queste stesse strade dalla presenza dell'ambulantato abusivo. Fermo restando che gli obiettivi fin qui raggiunti e quindi le strade libere del centro urbano, del centro storico, saranno particolarmente presidiate.